Ciao a tutti, eccoci al nostro nuovo giro di oggi purtroppo oggi il meteo è un po' nebbioso per cui questa è la prima ripresa con la nebbia un po' di radata perché finora era piuttosto finta siamo sullo sterrato che parte dal castello di Vivoli in direzione Reano l'anello di oggi è un anello dei tre fiumi Dora, Sangone e Borja, Guido quindi adesso abbiamo fatto il tratto della Dora colto nelle nebbie da Pollegno fino al Pignano di qui arrivaremo in quota fino a Reano scendendo poi a Brana dove imboccheremo il lungo Sangone fino alla confezza sul Po all'altezza di Moncalieri quindi la ciclabile del Po ci aspetta per tornare a casa è un po' di più è un po' di più è un po' di più è un po' di più